Quinta di Foggia, è il centrale di giornata, sono cavalli di tre anni, vincitori da 4 a 21 mila euro in carriera. C'è un cambio guida sul 2 di Demi Murtreb, sale Gennaro Amitrano in sostituzione di Claudio De Filippo. Il countdown è a zero e i cavalli si raccolgono qui sotto le tribune, in attesa che l'autostart accenda le luci e dica che si può andare. Sono dieci concorrenti al Via, dallo steccato con l'uno Devil Opie e Giorgio D'Alessandro Junior, 2 Demi Murtreb e Gennaro Amitrano, 3 Dakar dei Greppi e Vincenzo Gallo, 4 Dark Shadow con Romeo Gallucci, 5 De Collo SE con Vincenzo Luongo, 6 De Aneris Mabel, Mario Minopoli Junior, 7 Do It Again, Antonio Esposito, 8 Donna d'Amore SM con Antonio Simioli. In seconda fila il rientrante Dreyfus B con Gaetano Di Nardo e con il 10 Discovery AS. Allineamento buono discosta a Donna d'Amore e anche Do It Again. Arretra anche De Aneris Mabel, la prende lanciata Devil Opie. Partiti ora con Devil Opie lungo lo steccato che prova a rientrare al 4 di Dark Shadow che sfila in avanti con a largo De Collo SE, c'è stato l'errore di Dakar dei Greppi, lancio in 13,7 da parte di Dark Shadow e Romeo Gallucci che sono in avanti con all'esterno Vincenzo Luongo e De Collo SE che chiedono strada, poi Devil Opie, cavalli che finita la piegata vengono qui sul rettilineo davanti alle tribune con De Collo SE che alla fine sfila su Dark Shadow non senza spesa. De Collo SE passa i 600 iniziali in 42,9 che è una misura in avanti su Dark Shadow, poi Devil Opie, quindi Demi Murtreb, poi più indietro Discovery AS. Cavalli all'attacco della penultima piegata con De Collo SE che si mantiene in vantaggio dopo 800 metri in 59,2. Penultimo rettilineo, De Collo in vantaggio, poi Dark Shadow che prova a uscire dalla scia di De Collo e attacca i 600 finali, 14,2 il chilometro, passa Dark Shadow, si trascina Devil Opie, cala De Collo, poi c'è Demi Murtreb, Cavalli all'attacco dei tre quarti di miglio, passati in 1,28 e 8 da parte di Dark Shadow, filato da Devil Opie, poi Demi Murtreb dalle retrovie, prova a farsi viva donna d'amore a largo di tutti, Devil Opie si affaccia dalla scia di Dark Shadow e prova a sferrare l'attacco all'ingresso in retta, insiste Devil Opie su Dark Shadow che vende cara la pelle, Dark Shadow in vantaggio, a largo Devil Opie, a largo c'è anche Demi Moore, tutti in un fazzoletto e sul palo, forse Dark Shadow all'interno conserva qualcosina nei confronti di Devil Opie e a largo Demi Moore, sono molto vicini i tre, Dark Shadow sembra quello con un musino avanti, 1,58 e 7 la terza a seguire per Dark Shadow che nonostante saliva di categoria il portacolori di Ciro Ciccarelli allenato da Salvatore Borrino e guidato, Mastri magicamente da Romeo Gallucci si affermano mentre è stretta la foto per il secondo con Demi Moore Trebb che proprio sul palo appariglia Devil Opie, 29,9 per i 400 finali, ci sbilanciamo nel dire che Dark Shadow il figlio di May YSS si aggiudica il centrale del pomeriggio qui a Foggia, è tutto linea alla regia. Grazie a tutti.